Musica Buongiorno, siamo qui oggi all'Istituto Luigi Costanzo di Decollatura con la FIDAPA. Abbiamo condiviso questa iniziativa di musicoterapia perché fa parte dei nostri obiettivi della nostra associazione. Innanzitutto quello di parlare ai giovani delle iniziative sociali, di ciò che può essere utile a livello sociale. E quindi troviamo nella scuola, anche con la collaborazione del preside che è sempre recettivo verso le nostre iniziative, di parlare ai giovani di questo argomento che è la musicoterapia, che speriamo che presto rientri a far parte proprio delle figure istituzionali musicoterapeuta, soprattutto nei dipartimenti materno-infantili. L'altro concetto importante di questa iniziativa che noi abbiamo nella nostra mission di FIDAPINE è quella dell'empowerment, di promuovere delle donne che si sono distinte nelle loro professioni. Quindi vogliamo portare qui la testimonianza alla dottoressa Rubettino e alla dottoressa Patti, che operano nel campo della musicoterapia, che vogliamo sostenerle in questo percorso che sicuramente al momento non è molto facile. Grazie a tutti.